L'Europa vuol mettere in ginocchio la pesca italiana, afferma l'eurodeputata Rosanna Conte. Noi della Lega continua, non lo permetteremo. La prossima settimana a Strasburgo porteremo la voce dei nostri pescatori, per dire no, tra le altre cose, al piano della Commissione europea che vuole eliminare la pesca strasci con le esenzioni sui carburanti. Lo dice appunto l'eurodeputata della Lega e capogruppo di identità democrazia in Commissione pesca Rosanna Conte. Esprimo totale vicinanza ai nostri pescatori, continua, che questo fine settimana manifestano in tutta Italia. Il piano d'azione marino proposto dalla Commissione dell'Unione europea sembra ideato per mettere definitivamente in ginocchio la pesca europea e aprire la strada all'import indiscriminato da paesi terzi o peggio alle multinazionali che stanno investendo sul cibo artificiale. Vietare la pesca strascico, come propone Bruxelles, continua, vuol dire far fallire ben 7.000 imbarcazioni in Unione europea, di cui 2.088 solo in Italia, e veder sparire intere filiere ittiche. Parliamo di un comparto che nel nostro Paese sbarca il 33% del prodotto ittico nazionale. Il piano propone anche di eliminare l'esenzione IVA per i carburanti delle due l'una, o la Commissione non conosce lo stato della pesca europea oppure sta volutamente ponendo le basi per la sua definitiva scomparsa. Quale che sia il caso, noi della Lega conclude non permetteremo un'ulteriore stretta sulla pelle dei nostri pescatori nel nome di un'ideologia ecologista nefasta. Se vogliamo salvare i nostri mari, le nostre comunità costiere, abbiamo bisogno dei pescatori. Bruxelles se lo metta bene e chiaro in testa. Allora, siamo alla Cama, il pescheria Cama è qua ai saloni e la Cama ha deciso di iniziare il servizio di pulizia del pesce. È assolutamente obbligatorio la prenotazione per la pulizia del pesce. Se qualcuno giustamente vuole prima venire a vedere il pesce, voi sapete qua avete il prezzo, avete la qualità, per la pulizia passa magari pomeriggio o passa pubblicamente. La prenotazione si chiede almeno giorno prima e al numero WhatsApp 334 66 98 158. Vi ricordiamo che venire qui in pescheria è comodissimo, c'è un ampio parcheggio, quindi diciamo evitate qualsiasi tipo di stress.